Benvenuti al corso sul colloquio di selezione. Io sono Massimo Perciavalle, sono un coach, un trainer, sono stato per molto tempo un consulente recruiter. In questo corso vi racconterò la mia esperienza riguardo proprio il colloquio di selezione e quindi imparerete come strutturare un colloquio di selezione e soprattutto quelli che sono le tipologie di colloquio. Quindi il colloquio è uno strumento ma di fatto a seconda proprio degli obiettivi può essere utilizzato in vari modi e quindi in questo video corso scoprirai quali modi e come utilizzarlo al meglio soprattutto salvaguardando anche la relazione con il tuo candidato. Allora iniziamo la trattazione del colloquio di selezione.